De Luca, ospite a Porta a Porta, ipotizza ancora la chiusura totale della Campania. Intervento del Presidente della Regione Campania su Rai 1 insieme al Governatore del Veneto Zaia. Stiamo cercando di spiegare a tutti quanti che se vogliamo convivere con il Covid dobbiamo rispettare rigorosamente le regole. O si rispettano le regole oppure si chiude tutto, non c'è alternativa. Riguardo alla sua recente riconferma nelle elezioni regionali, De Luca ha ribadito che la schiacciante maggioranza ottenuta è scaturita da un voto di popolo che ha raccolto il consenso di tutte le persone per bene. Io mi auguro che questo voto sia un segnale positivo per l'Italia, un segnale di unità popolare, di responsabilità. Per dirla in termini molto semplici, la gente ha capito che le nostre famiglie, le nostre aziende, i nostri figli contano cento volte di più delle bandiere di partito. Il Presidente ha espresso la sua preoccupazione per i nuovi contagi e sul diffondersi dell'epidemia su tutto il territorio campano. Sono molto allarmato, non piuttosto allarmato. Io credo che dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo dire con grande chiarezza ai nostri concittadini che siamo già nella seconda epidemia. Non è che deve ancora arrivare, è già arrivata. In particolare, per il Governatore, la criticità maggiore è l'assenza di controlli sull'enorme anticontagio. Noi prima di dieci mesi non avremo la disponibilità di un vaccino, se ci va bene fra dieci mesi. Se vogliamo convivere, il sistema di controllo del territorio deve essere rigoroso e capillare. Io rilevo che da due mesi, tre mesi, le forze dell'ordine, da questo punto di vista, sono scomparse. Non è mancato un vero e proprio ultimatum su un possibile lockdown in Campania. Noi possiamo fare due scelte, o andare verso il lockdown, cioè chiudere tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti, oppure decidere di convivere con il Covid, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole. Però lei ha già detto che fino al 7 ottobre non si possono fare gli alcolici da asporto, non più dopo le 22. Poi ha deciso anche che nelle feste non ci possono stare più di 20 persone. Quindi c'è stata già una discreta stretta. Questa è la penultima decisione prima di chiudere tutto. Grazie.